Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenuti a tutti. Oggi Mario Lodi avrebbe compiuto 99 anni, se ne è andato il 2 marzo del 2014. Lasciando in tutti noi un grande vuoto, un vuoto incolmabile. Abbiamo lasciato un segno a chi vuole continuare, disse un giorno Mario Lodi, riferendosi con la solita umiltà al contributo che aveva dato alla scuola italiana e a tutta la nostra pedagogia. Ecco, noi oggi intendiamo ripartire proprio dal segno che egli ci ha lasciato, portandolo nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica per far sì che possa essere colto da tutti coloro i quali vorranno aiutarci a portarlo avanti nel corso del prossimo anno, dell'anno che ci accompagna verso il centenario della nascita di Mario Lodi. È proprio per festeggiare questo centenario che abbiamo deciso, un gruppo di intellettuali, un gruppo di educatori, un gruppo di persone vicine a Mario Lodi, ha deciso unitamente alla famiglia e al Consiglio Direttivo della Casa delle Arti e del Gioco, da lui fondata nel 1989, di costituire un comitato promotore per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi, che ricorrerà tra un anno esatto, il 17 febbraio del 2022. Il comitato promotore del centenario è presieduto da Francesco Tonucci ed è costituito dalla moglie di Mario, Fiorella, dalla figlia Cosetta, da Tuglia Colombo, in rappresentanza della Casa delle Arti e del Gioco, dalla segreteraria nazionale del gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione e linguistica, Silvana Loiero, dal presidente d'Indire Giovanni Biondi, dal vicepresidente dell'impresa sociale con i bambini Marco Rossi Doria, dalla saggista Carla Ida Salviati e da chi vi sta parlando. Il comitato dovrà avviare e coordinare fondamentalmente quelle che sono le iniziative intese a celebrare il pensiero e l'opera di questa straordinaria figura di maestro e di scrittore in occasione del centenario della sua nascita. Non abbiamo ancora pensato a un programma definitivo delle iniziative, ci sono numerose, diciamo così, idee che stanno circolando e tantissimi di voi, anche chi ci sta seguendo in questi giorni, continuano a far arrivare proposte, idee e quant'altro. Abbiamo al momento, diciamo così, degli obiettivi, degli obiettivi molto chiari. Il primo obiettivo, il nostro primo obiettivo è quello sostanzialmente di costituirci in comitato nazionale, secondo quanto previsto dalla legge del primo dicembre 1997 e a tal fine ci siamo già posti in contatto con il Ministero dei beni culturali per presentare una regolare istanza alla consulta dei comitati e delle edizioni nazionali. E questo crediamo che sia l'obiettivo principale e anche un riconoscimento fondamentale proprio per il nostro comitato, ma soprattutto per la figura di Mario. Le iniziative che abbiamo in animo di organizzare per il 2022 sono al momento le seguenti. L'organizzazione di una giornata di studio, proprio il 17 di febbraio del 2022, alla Casa delle Arti del Gioco, da lui fondata, nel corso della quale giornata di studio vogliamo fondamentalmente ricordare Mario, ricordare Mario insieme a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Poi abbiamo pensato ad un evento più istituzionale, un convegno internazionale, perché Mario ebbe influenza non solo sulla pedagogia e sulla scuola italiana, ma sulla pedagogia e la scuola di tanti altri paesi, in primis la Spagna, ma anche molti altri. E allora noi vogliamo dare una dimensione internazionale a questo convegno di studi sul pensiero e sull'opera di Mario Lodi, del quale, logicamente, saranno pubblicati anche gli atti. Inoltre ci stiamo muovendo per sondare la disponibilità di alcuni studiosi per la realizzazione di studi monografici sul suo pensiero, sulla sua figura, sulla sua vita e sulla sua opera. Ma non solo, abbiamo già preso contatti con numerose case editrici che nel corso del tempo si sono occupate dell'opera di Mario Lodi per ripubblicare alcuni tra i suoi libri più amati e che meritano sicuramente di essere riportati all'attenzione del pubblico in un'occasione così importante come il centenario. Ma abbiamo intenzione di andare anche verso le necessità della scuola di oggi. Abbiamo intenzione anche di parlare agli insegnanti, ai maestri, alle maestre che tanto hanno bisogno o avrebbero bisogno di recuperare proprio le parole di Mario di sentirsele dire di nuovo. Ecco che allora la nostra intenzione è anche quella di organizzare un corso di, alcuni corsi anzi, di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e per il personale docente della scuola dell'infanzia in particolar modo del primo ciclo di istruzione proprio seguendo i pilastri del pensiero della pedagogia di Mario Lodi. È già allo studio e in fase di realizzazione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa di Firenze la realizzazione di alcune videointerviste fatte ad esperti e a persone vicine a Mario per, diciamo, destinare questi videointerviste e questi audiovisivi a sensibilizzare gli insegnanti italiani sul tema dell'innovazione didattica sempre partendo dall'opera di Mario. Ma c'è un'altra cosa che ci è molto cara far circolare la mostra molto bella realizzata dopo la morte di Mario che ha già circolato in numerosissime città italiane da Firenze a Macerata, Cremona, Piacenza la mostra La Scuola di Mario Lodi la quale potrà trovare numerose altre sedi che l'accoglieranno in altre tante città italiane, speriamo le principali e essere anch'essa, diciamo così, un vessillo del centenario e a questo riguardo è interessante anche ricordare che abbiamo già ricevuto dall'estero, in particolar modo dalla Spagna l'interesse appunto di alcuni amici di Mario Lodi spagnoli di tradurre e portare ed esporre in terra spagnola molto probabilmente nella stessa capitale, Madrid la mostra appunto di cui abbiamo appena parlato ma poi ci sono altre mostre realizzate dallo stesso Mario le mostre Alberi e l'arte del bambino mostre tanto amate che ebbero un grande successo quando furono esposte la prima volta e che è giusto rimettere in circolo è giusto far di nuovo conoscere a tante persone ecco che allora anche in questo caso con la casa delle arti del gioco ci stiamo muovendo e desideriamo fortemente portare queste mostre nuovamente in giro per le città italiane e infine una cosa che non poteva mancare una cosa che il comitato serva come molto cara è la valorizzazione dell'enorme patrimonio documentario e non solo di documenti cartacei ma anche audiovisivi, fotografici che Mario Lodi ha raccolto nel corso della sua vita e che giace oggi raccolto all'interno dell'archivio privato di Mario conservato dagli eredi un archivio che merita di essere studiato che merita di essere valorizzato adeguatamente e messo a disposizione delle persone in modo che possano studiare e conoscere sempre di più la figura di questo straordinario maestro ma non è solamente il comitato promotore che diciamo così realizzerà eventi nell'ambito del centenario ci sono moltissimi amici di Mario che non stanno all'interno del comitato promotore ma che hanno già proposto al comitato promotore delle collaborazioni che hanno già intenzione di organizzare e coorganizzare con noi a livello nazionale seminari e presentazioni di libri all'interno di festival letterari anche di festival letterari dedicati appunto ai libri per bambini ma anche librerie, biblioteche o addirittura tutti quegli istituti scolastici che hanno deciso ormai negli ultimi 20-30 anni di dedicare proprio alcuni plessi o tutta l'intera scuola l'intero istituto comprensivo a Mario Lodi e credo che questo sia un bellissimo segnale coinvolgere queste scuole che hanno attributato questa attenzione al maestro sarà veramente una sfida importante che desideriamo però raccogliere con gli insegnanti con i bambini che stanno in quelle scuole logicamente ci teniamo a fare una premessa noi speriamo che per il 2022 la situazione epidemiologica in corso sia completamente stata risolta e speriamo davvero che nel 2022 tutto quello che abbiamo detto potrà essere vissuto da noi in presenza incontrandoci, stando insieme parlando e ricordando commemorando la figura del maestro Lodi tutti quanti insieme non sappiamo se questo sarà possibile ancora però quello che vi possiamo garantire per parte nostra è che seguiremo costantemente l'evoluzione della pandemia e logicamente cercheremo di comportarci di conseguenze di trovare tutte le soluzioni che sarà possibile trovare per vivere al meglio questo bel anno di festa di festeggiamenti ma Mario merita anche un'attenzione da parte delle istituzioni merita un'attenzione da parte delle istituzioni alle quali ha sempre dedicato molta attenzione soprattutto considerando l'espressione di quella Costituzione che lui ha tanto amato e tanto difeso ed è per questo motivo che molte delle iniziative che noi stiamo organizzando avranno il patrocinio sicuramente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per una in particolar modo avremo la possibilità di chiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica cosa che noi abbiamo pratica che noi abbiamo già avviato stiamo solamente aspettando di avere il programma definitivo delle iniziative per poter decidere quale delle tante iniziative che abbiamo intenzione meriti questo alto riconoscimento un alto riconoscimento che è fondamentale dirlo è un riconoscimento dovuto in qualche modo perché Mario Lodi ricevette dal Presidente Ciampi nel 2000 e nel 2003 due tra le più alte e prestigiose nuove efficienze al merito della Repubblica Italiana e quindi riteniamo davvero che questo sia un passaggio fondamentale il comitato promotore non si muoverà da solo il comitato promotore ha deciso di avvalersi dell'appoggio dell'aiuto della consulenza scientifica di un comitato scientifico di persone qualificate che a livello nazionale e internazionale si sono diciamo così occupate o hanno collaborato in passato con Mario ecco che allora all'interno di questo comitato scientifico abbiamo deciso di mettere i membri del Consiglio Direttivo della Casa delle Arti del Gioco che sono oggi coloro che portano avanti a tutti gli effetti la grande eredità culturale di Mario alcuni storici collaboratori di Mario Lodi che sono qui collegati oggi e che saluto e altri esperti a livello nazionale e internazionale provenienti dal mondo della scuola dal mondo della ricerca ma anche da tanti altri mondi dal mondo della musica dal mondo del teatro proprio per onorare al meglio la memoria di un maestro che ha esplorato vari ambiti e che ha avuto modo di davvero come posso dire sondare tutto tutto l'ampio parco dello scibile umano abbiamo e qui diciamo così mi avvio a un momento di condivisione con voi che è quello del logo che abbiamo realizzato abbiamo infine realizzato appunto anche il logo ufficiale del centenario che è stato realizzato dalla casa editrice dai grafici della casa editrice Orecchio Cervo ecco lo vedete qui in anteprima non l'avevamo ancora svelato chi avrà curiosato sul nostro sito probabilmente lo avrà visto ma il comitato si riserva di concedere questo logo a tutte le iniziative autonomamente organizzate da editori associazioni culturali centri di ricerca e scuole un utilizzo che sarà logicamente sottoposto anche a una validazione da parte del comitato scientifico ma ecco il logo del centenario e a proposito delle partnership nazionali e internazionali che abbiamo intenzione di mettere in ponte di mettere in atto non poteva mancare la disponibilità a collaborare alla realizzazione di eventi che utilizzino appunto questo logo l'aiuto il sostegno di numerose istituzioni italiane e internazionali che nel corso del tempo si sono avvicinate hanno conosciuto hanno avuto modo di apprezzare di collaborare con Mario Lodi e allora tra le istituzioni italiane non possiamo oggi non citare davvero il movimento di cooperazione educativa che fu per lungo tempo la casa di Mario Lodi e con il quale Mario Lodi ebbe sempre un rapporto davvero di grande affetto e di profonda collaborazione nel corso del tempo ma anche la società italiana di pedagogia la SIPED la società italiana che raccoglie tutti i pedagogisti italiani la federazione italiana dei CEMEA e anche la fiera del libro per ragazzi di Bologna che tanto ha fatto in passato per valorizzare la figura di Mario e che siamo sicuri potrà ancora nel corso del 2022 proporre una serie di eventi importanti ma ci sono anche collaborazioni internazionali che abbiamo messo in atto dalla Spagna per esempio sono arrivate sicuramente le disponibilità dell'assione educativa della Confederazione dei Movimenti di Rinnovazione Pedagogica che è la Confederazione dei Movimenti di Rinnovamento Pedagogico l'Associazione dei Maestri Rosa Sensà di Barcellona ma anche ancora uscendo dal solo ambito spagnolo la Federazione Internazionale dei Movimenti della Scuola Moderna la FIMEM la Federazione Internazionale dei CEMEA di cui ho già citato la Federazione Italiana l'Institut Cooperative dell'Ecole Moderna di Nantes che raccoglie la Grande Eredità Frenetiana a cui Mario fu così tanto legato e l'International Board on Books for Young People che è Libby sostanzialmente che credo molti di voi conosceranno ecco tutte queste associazioni ci hanno già dato una grande disponibilità ci hanno già manifestato il loro desiderio di poter collaborare con noi e noi vorremmo sicuramente essere aiutati e nel portare avanti questa impresa davvero così importante della quale sentiamo il grande il grande preso ma anche la grande gioia insomma come potete immaginare ecco non mi resta che far altro prima di salutare e di considerare terminata la mia breve presentazione e passare quindi la parola a chi viene da dopo di me di presentarvi brevemente il portale web del ufficiale del centenario un portale web sul quale troverete tutte le informazioni da oggi in poi relative alle tante attività che abbiamo intenzione di portare avanti e che sarà utilizzato proprio sostanzialmente per garantire una organica capillare e il più diciamo così coordinata possibile diffusione di tutte le informazioni relative alle varie iniziative promosse in questo ambito sia dal nostro comitato sia da tutti coloro che vorranno collaborare con noi quindi questo portale diventerà la casa comune di tutte le iniziative che saranno realizzate nel corso del 2022 benissimo a questo punto io considero chiuso il mio compito e sono davvero particolarmente lieto di passare la parola a Cosetta figlia di Mario oggi presidente della casa delle arti del gioco e rappresentante degli eredi all'interno del comitato promotore che però è stata anche una testimone diretta della straordinaria esperienza pedagogica ed educativa documentata all'interno di uno dei libri più famosi e più amati di Mario Lodi il paese sbagliato ecco che quindi passo la parola a Cosetta Lodi grazie buon pomeriggio a tutti Mario Lodi era mio padre è stato un bravo padre è stato anche il mio maestro e ho capito da grande la fortuna di essere stata una sua scolara è stato un amico una figura esemplare di riferimento alla quale tutta la mia famiglia è infinitamente grata un uomo con grande libertà e autonomia di pensiero la sua è stata una indipendenza ma non solitaria un'autonomia fatta di sobrietà e di grande determinazione di sfide e coraggio di salde radici e di uno sguardo lungo al futuro pensando alle celebrazioni dei cento anni mi piacerebbe che ne uscisse un ritratto a tutto tondo professionale ed umano possiamo tutti ricordare di lui una grande semplicità ma una semplicità densa fatta di intenso studio di riflessione di confronti e discussioni di idee e intuizioni di pagina di una via leggera e il risultato di pensieri profondi ecco mi piacerebbe che le celebrazioni del centenario possano ricordare il nostro maestro Mario con lo stesso stile e con la stessa intensità in particolare attraverso l'incontro e il ricordo dei tanti amici che con lui hanno condiviso lo studio il lavoro sul campo la ricerca l'innovazione a lui piacerebbe sicuramente fatto in questo modo come occasione per incontrarsi sui tanti temi dell'educazione dei linguaggi espressivi della creatività e come piacere di ascoltare vedere coltivare ecco nelle intenzioni e negli auspici della famiglia del direttivo dell'equipe di Casa delle Arti del Gioco di cui mi faccio portavoce le celebrazioni del centenario hanno in particolare questo scopo ricordare Mario Lodi con lo stesso spirito costruttivo e la stessa leggerezza densa di contenuti la Casa delle Arti del Gioco è stato uno dei progetti più importanti della sua vita è stata fondata da mio padre nell'89 in seguito a un premio il premio internazionale Lego un premio che veniva conferito come afferma la motivazione a personalità e enti che abbiano dato un contributo eccezionale ai miglioramenti della qualità di vita dei bambini quando ricevete il premio Lego mio padre decise di destinare i proventi del premio alla realizzazione di un progetto sogno e di fondare insieme ad amici e collaboratori la cooperativa Casa delle Arti del Gioco con l'obiettivo di dar vita a un centro studi ricerche sull'età evolutiva sulla cultura del bambino e anche a una pinacoteca dell'arte infantile con i soldi del premio ristrutturò i locali in un tempo adibiti a stalle della cascina Piccolo Sforzosi in cui abitavamo in cui abitiamo tuttora e li diede incomodato gratuito alla Casa delle Arti del Gioco diventata poi associazione culturale che ancora oggi dispone di questi spazi come propria sede e così iniziò un'avventura una bella avventura intorno a Mario Lodi si ritrovarono educatori intellettuali insegnanti cittadini a condividere questo progetto pedagogico e culturale e le sue principali finalità che sono ad esempio promuovere la formazione degli insegnanti dei cittadini che si dedicano all'educazione democratica valorizzare e sviluppare le capacità espressive creative e logiche di bambini e adulti presieduta per 25 anni da Mario Lodi la Casa delle Arti del Gioco si è rivelata una fucina di idee e di iniziative quali convegni giornate di studio seminari pubblicazioni collaborazioni a riviste giornali collaborazioni con scuole comuni associazioni eccetera a Drizola sono arrivate tante classi e tanti bambini e bambine hanno partecipato ai più diversi laboratori dalla Casa delle Arti del Gioco viceversa sono partiti per tutti i bambini e le bambine percorsi didattici strategie operative metodologiche proposte educative da sperimentare con i genitori e nella scuola qui ad esempio sono nate mostre bellissime come l'arte del bambino come alberi come ritratti che sono collezioni di opere pittoriche che raccontano il valore dell'espressività infantile oltre a essere documenti dell'esperienza didattica di mio padre qui ad esempio è nato il libro Costituzione e la legge degli italiani riscritta per i bambini per i giovani per tutti un libro importante che con un linguaggio semplice racconta la Costituzione la bussola diceva Mario Lodi che ci guida a scuola e nella vita se vogliamo costruire una società di alto profilo etico insomma una casa un luogo uno spazio una storia ricca di incontri di colori di relazioni di valori e di azioni oggi l'avventura continua l'associazione si chiama Casa delle Arti del Gioco Mario Lodi in onore del suo fondatore e prosegue il percorso sulla strada indicata dal maestro soprattutto per sua volontà quando mi disse andate avanti come fosse la cosa più naturale di questo mondo indubbiamente la sua guida ci manca molto tuttavia oggi la Casa delle Arti del Gioco oltre ad attività culturali e formative si è data un'ulteriore finalità che è quella di promuovere la conoscenza la divulgazione dell'insegnamento del pensiero e delle opere di Mario Lodi e lo facciamo anche attraverso lavori di ricerca analisi e valorizzazione di alcuni documenti d'archivio ecco io penso che il centenario sarà quindi una bella opportunità per poterlo fare e qui colgo l'occasione per ringraziare fin d'ora tutti coloro che vorranno seguirci tutti coloro che vorranno partecipare alle iniziative del centenario quindi grazie veramente a tutti bene bene ringraziamo Cosetta per il suo intervento un intervento devo dire molto importante per tutti noi che sappiamo quanto lei abbia fatto per raccogliere tutti quanti e per metterli appunto a lavorare insieme per celebrare la figura di suo padre quindi la ringrazio personalmente ma a nome di tutto il comitato promotore per questo abbiamo chiesto ci è sembrato importante di chiedere a un attore regista di essere qui oggi con noi per offrirci diciamo così un saggio di alcuni di brani tratti dalle opere di Mario e allora abbiamo deciso di coinvolgere proprio Giorgio Scaramuzzino responsabile del teatro ragazzi del teatro nazionale di Genova ma in particolar modo oggi qui come persona vicina a Mario persona vicina a Mario perché Giorgio per il prossimo anno è uno di quelli che sta già lavorando con noi del comitato promotore proprio per valorizzare al meglio una delle opere di Mario in particolar modo le sceneggiature teatrali inedite scritte da Mario Lodi e date da bandiere da CP che usciranno proprio in occasione del centenario ecco allora che lo vedo già collegato quindi sono felicissimo di lasciargli la parola per fare in modo che faccia rivivere attraverso le sue parole attraverso il suo genio artistico il nostro Mario grazie Giorgio grazie spero che mi sentiate perché ho avuto dei problemi che mi odia e che io in qualche modo odio e perciò c'è un odio reciproco e naturalmente fatemi un cenno eventualmente se ci sono dei problemi intanto vi ringrazio vi ringrazio veramente di cuore io sono emozionatissimo ma veramente emozionato emozionato perché stiamo parlando di un maestro ma non di un maestro qualsiasi del mio maestro che insieme a Gianni Rodari ha fatto nascere in me la passione e ha dotato a me di una teoria e di una voglia fondamentale per il mio lavoro per il mio lavoro di attore e come me tantissimi attori che si occupano di infanzia e di ragazzi ma perché noi siamo partiti esattamente dalla scuola la storia del teatro ragazzi è proprio fatta così siamo partiti dall'animazione teatrale nelle scuole il teatro ragazzi è nato da questo grande movimento che è stato l'animazione teatrale e noi animatori teatrali gente che andava nella scuola non poteva non incontrare Mario Lodi perché Mario Lodi ha insegnato a noi che cosa vuol dire avere un rapporto con la scuola e lì è nato tutto io ho iniziato la mia attività nel 1978 e nell'82 se non sbaglio è uscito un libro Ciao Teatro nel quale c'erano tutti i presupposti perché io facessi questo lavoro qua io ho avuto la fortuna di incontrarlo Mario Lodi soltanto una volta ma è stato un incontro meraviglioso perché quando si incontrano i maestri ad esempio un altro mio maestro Gianni Rodari so che Francesco Tonucci mi sta sentendo anche un po' lui è stato il mio maestro mi ha aiutato molto a fare uno spettacolo sulla politica spiegata ai bambini ma Rodari non sono riuscito a conoscerlo ho conosciuto molto bene la moglie ma lui non sono riuscito a conoscerlo mentre Mario Lodi l'ho proprio incontrato e l'ho ringraziato per avermi dato tutte queste suggestioni che hanno portato a fare questo lavoro ormai lungo tanti tanti anni ciao teatro ciao teatro è stato questo non so se riesco a inquadrarlo è stato questo la Bibbia è tutto sottolineato l'edizione originale 4.500 lire costava e in questo c'erano tutti i presupposti anche del modo di fare teatro non solo il modo di rapportarsi con i bambini ma il modo proprio di recitare io poi ho scoperto dopo quando io ho fatto una scuola di recitazione la scuola di recitazione dello stabile di Genova che ero in qualche modo già formato come attore perché Mario Lodi non so quanto consapevolmente aveva studiato il modo di fare teatro che non è quello che molti credono di impersonificare un personaggio ma è quello di entrare nel personaggio con se stessi con la propria con la propria personalità col proprio vissuto chiama Mario Lodi Mario Lodi chiama proprio vissuto e ci sono dei brani che mi piacerebbe leggere con voi non voglio far tardi non voglio far perdere il tempo ma per dirvi quanto lui sapeva di recitazione e quanto lui sapeva come lo strumento teatro poteva essere uno strumento educativo di fondamentale importanza all'interno della scuola Mario Lodi dice tre altre cose basta basta con queste recite scolastiche così con queste recite scolastiche niente costumi niente scenari niente oggetti è il corpo la parola l'immaginazione sono gli elementi con i quali si inventa il gioco e la storia basta prendere le storie dai fascicoletti dai copiocini che girano le storie bisogna inventare perché se le inventano i bambini le storie le vivono non fanno più io interpreto un personaggio ma lo fanno vivere questo e continua dicendo una cosa che a quell'epoca io non capivo ma poi recitando e facendo il regista ho capito perfettamente e dice i personaggi scelti dai bambini per la loro congenitalità vuol dire che loro aderiscono psicologicamente al personaggio quindi con vivacità espressiva e direi che la recitazione diventi una finta finzione ma guardate che è una cosa rivoluzionaria per l'82 quando ancora eravamo lì ancora oggi ci sono ci sono certe recite scolastiche dove si vede i bambini di balbettare qualche battuta imparata a memoria nell'82 era una rivoluzione questa di dire alle maestre e ai maestri non fate recitare i bambini fateli vivere fateli giocare ma soprattutto a scuola e perché continuava a dire che solo la scuola è il momento in cui i bambini sono se stessi e il teatro è un modo per cui sono ancora più se stessi perciò guai riempirli di cose inutili i costumi cose inutili no i costumi e il corpo e il loro vissuto che io poi successivamente nei miei testi ho chiamato memoria emozionale ma che è la stessa cosa fondamentale per un attore e poi sentite qua cosa dice dice una cosa pazzesca nella scuola lui dice la vita bambino non entra la vita del bambino non entra il teatro se si fa la cosiddetta recita i testi di Natale a Carnevale i saggi lui era contrario a queste cose il bambino è un oggetto e deve essere l'oggetto il soggetto dell'intervento scolastico invece diventa un oggetto così con la recita non si tiene conto della sua storia delle sue esperienze in cui si trovano le fondamenta del suo vero apprendimento della sua formazione non c'è rispetto del suo mondo affettivo e delle sue esigenze espressive guardate che questa è il fondamento della recitazione l'attore 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 vero non è che si chiede come devo fare un personaggio si chiede quale della mia esperienza emotiva emozionale del mio vissuto può essere utile al personaggio che devo interpretare e questo pensate bene a livello educativo che potenza ha cioè io dico al bambino tu devi essere te stesso recitando più sei te stesso e più avrai originalità nella recitazione e poi sarai un vero attore e per un insegnante cosa vuol dire se tu sei te stesso io capisco chi sei e posso guidarti nella tua crescita è educere tirare fuori questo è il principio fondamentale dell'educazione ed è fare teatro e questo Mario l'ha capito quando invece si vedevano in giro per il mondo le recite e quando e noi eravamo indotti in questo mondo a fare la recita e a fare il saggio di fine anno e Mario il grande rivoluzionario ci diceva queste cose qua ci diceva appunto il teatro e vita per i bambini possono considerarsi la stessa cosa il teatro e la vita aspetti diversi ma dello stesso vissuto il teatro deve essere la vita la loro vita nessun diaframma li separe perché coincidono ma solo a scuola perché per il resto le convenzioni le standardizzazioni di massa come succede oggi ancora più di ieri cercano di uniformare il bambino di farlo diventare uguale agli altri invece il teatro aumenta e fa e fa apprezzare la diversità nessun diaframma li separa perché coincidono dice la sintesi tra vita scuola e teatro nella rappresentazione dell'esistenziale sul piano reale o fantastico può realizzare nella prassi quotidiana l'utopia del protagonismo infantile nel processo educativo cioè diventa perciò il teatro fare teatro e i bambini uno strumento eccezionale per l'insegnante per poterlo guidare diventa uno strumento essenzialmente educativo perciò fare teatro significa far vivere il bambino far vivere nella memoria spesso e volentieri ma anche nel presente il bambino Mario in questo libro ci dice io guardo i bambini quando giocano nel cortile e dico ma perché i genitori non li possono mai vedere così non li vedranno mai così soltanto a scuola ed è per quello che è importante la scuola ahimè in questo periodo più che forse in altri periodi perché a scuola il bambino è molto più se stesso che altrove forse no beh forse in famiglia va bene ma dico negli altri ambiti perché gioca perché gioca quanto è importante no il gioco in teatro recitare in tutte le lingue europee si dice giocare non per niente no non per niente e poi ancora dice delle cose innovative il teatro differisce dal film e dallo spettacolo oggi aggiungerei e dal computer da tutti questi media per una caratteristica che oggi ha un'importanza fondamentale e questo quello che dice è sostanziale chi parla recita comunica è una persona viva il teatro si fa con le persone vive e perciò c'è un rapporto in carne e ossa con il quale si stabilisce un contatto umano e con il quale si può dire o far capire in qualche modo che cosa si pensa di quello che si ha di fronte c'è il rapporto interpersonale un rapporto che oggi è sempre meno a parte il covid che lo ha accentuato se non altro insomma l'Odi è stato un maestro un maestro anche in campo teatrale e molti dei miei colleghi non sanno che l'Odi è stato un loro maestro inconsapevolmente perché ha portato nella scuola questa grande rivoluzione che già in qualche modo aveva accennato Rodari naturalmente e infatti tra i due c'è sempre stata molta sintonia ma lui ha approfondito facendone molto di più che Rodari di teatro io ho appena scritto la voce teatro per l'enciclopedia che è uscita dall'electra del teatro e mi sono accorto che lui si ha scritto qualche cosa ha teorizzato molto poco però sul fare teatro per i bambini mentre l'Odi ad esempio lui ci continua a dare queste indicazioni ciao teatro è un libro pieno di questo ma non solo ciao teatro in tantissimi saggi in tantissimi articoli Mario ci parla di questa importanza educativa del fare teatro e io sono orgogliosissimo di essere della partita di essere di questa tribù tribù è una parola che mi sembra potrebbe piacere a Mario sto seguendo questa edizione teatrale di CP e bandiera che è stato per me un lavoro entusiasmante perché abbiamo preso tantissime versioni che Mario ha scritto con i bambini di questi due grandi racconti e ne abbiamo adattati li abbiamo trasformati in questi due copioni teatrali con lo spirito di Mario Lodi lo vedrete quando usciranno perché sono aperti non vogliono essere i copioncini per la recita vogliono essere pretesti per far vivere ai bambini la loro vita e soprattutto il loro vissuto per poterci dire a noi educatori chi sono loro per poterli aiutare e per questo io ringrazio tutti quanti voi ma il mio grazie per il lavoro che sto facendo che è il lavoro più bello di quel mondo quello di raccontare storie ai bambini grazie davvero di cuore Mario Lodi grazie grazie a te Giorgio le tue parole il tuo ricordo appassionato credo davvero siano riusciti a riportarci anche alla dimensione più vera della personalità così ricca di Mario che davvero era in grado di parlare a tutti quanti non solamente a chi stava all'interno della scuola ma anche a chi stava fuori come a te che appunto hai colto i semi che lui ha seminato dietro di sé ha lasciato dietro di sé appunto un tema come quello del teatro che gli era davvero molto caro e quindi grazie per il tuo ricordo ancora ma adesso abbiamo deciso di avere con noi Mario oggi ovviamente questo non è possibile se non idealmente simbolicamente però ci è sembrato davvero di averlo con noi ricordandolo attraverso uno diciamo così degli spezioni cinematografici forse più noti che lo vede il protagonista quello tratto dall'inchiesta televisiva quando la scuola cambia girata per la RAI da Vittorio De Setta nel 1978 ed era un'inchiesta televisiva molto particolare perché riprendeva idealmente il discorso iniziato nel 1973 dallo stesso De Setta con lo sceneggiato televisivo diario di un maestro il cui soggetto era stato tratto dal libro autobiografico un anno a pietralata di un caro amico e collega di Mario che era Albino Bernardini un altro rappresentante della scuola democratica della grande tradizione della scuola democratica italiana ecco la puntata dedicata a Mario Lodi si intitolava non a caso partire dal bambino che richiama uno dei più bei libri anche di Mario cominciare dal bambino che sarebbe stato pubblicato proprio in quegli anni e è bello ricordare come quella puntata sia stata realizzata con la consulenza pedagogica di Francesco Tonucci del nostro presidente che è qui oggi presente che tra poco parlerà quindi prego la regia di mandare lo spezzone tratto da quando la scuola cambia il giornalino come lo facciamo ora è una informazione per i genitori ed è aperto ai loro contributi poi è una comunicazione verso altri ragazzi perciò un superamento della chiusura dentro l'aula è manualità il lavoro di gruppo ma soprattutto io direi che è importante perché è un diario della nostra esperienza scolastica specialmente quando come in questo periodo c'è il coraggio di rappresentare le cose dal di dentro di fronte a tutti il giornalino scolastico almeno come lo facciamo oggi ci porta verso questa maturazione verso questa coesione del gruppo che nell'amicizia ci porta a una conoscenza sempre più profonda di tutti noi e a diventare comunità una società è civile quando cerca di adattare se stessa perciò le istituzioni fra queste mettiamo anche la scuola alla crescita umana e sociale dell'uomo questo è il cuore del problema il ribaltamento ecco deve venire proprio su questa base non di inserire come si dice l'uomo nel sistema sociale qualunque esso sia un sistema di tipo autoritario di adattarlo diciamo al sistema ma quello di sviluppare al massimo le sue capacità di intelligenza di elaborazione di inventiva perché in questo modo lui può contribuire alla crescita proprio della società certo che questo pensiero fa paura tutti i sistemi autoritari lo temono lo temono perché è un uomo libero normale e perciò libero non può non considerare in che mondo vive quali sono i problemi le cause di questi problemi e di contestarli di metterli in discussione di trovarne le cause e di proporre le soluzioni ecco perché diventa un uomo pericoloso pericoloso per chi lo vuole mantenere soggetto in un certo senso si potrebbe dire insomma che l'uomo non è proprietà di nessuno questo è il principio non è proprietà né della madre né del padre né della scuola né della fabbrica né dello stato che ha il diritto di vivere una vita felice e che per nessuna ragione una società gli può impedire questo eccoci tornati è davvero complicato riprendere a parlare dopo aver sentito parole così importanti dopo aver sentito delle parole che credo stiano davvero toccando corde molto intime per ognuno di noi per tutti coloro che sono qui riuniti oggi per ricordare questo grande maestro in occasione del suo 99esimo compleanno però adesso è arrivato il momento davvero di presentarvi tutti gli altri che hanno deciso di partecipare a questo nostro a questa nostra impresa di far parte di questo comitato promotore mancheranno solamente all'appello Tuglia Colombo Silvana Loiero e Fiorella la moglie di Mario perché abbiamo deciso insomma di non parlare tutti perché non avrebbe avuto senso sarebbe diventato davvero molto complicato però abbiamo deciso di assegnare ad ognuno degli altri membri del comitato scientifico il compito di raccontarci un pezzo della vita della persona del pensiero dell'opera di Mario ecco allora che chiamo gli altri miei compagni di avventura che sono Francesco Tonucci ecco Francesco che sta arrivando buongiorno Francesco ben arrivato Carlaida Salviati ecco Carlaida ciao Carlaida Marco Rossi Doria ecco Marco buongiorno anche a te e Giovanni Biondi ecco Giovanni Biondi bene adesso li abbiamo visti sono pronti per parlare il primo che ci ricorderà la figura di Mario è appunto Francesco Tonucci Francesco io non credo che abbia molto bisogno di presentazioni come del resto tutti gli altri che vedete e che conosciamo tutti molto bene però dirò solamente due parole per ricordare che è sì un pedagogista sì ricercatore associato presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR e sì anche creatore di un progetto internazionale al quale lui tiene moltissimo che è la città dei bambini ma Francesco principalmente qui oggi credo che sia perché è stato amico profondo intimo di Mario è stato suo compagno di lotta per portare avanti un'idea di scuola più democratica negli anni in cui davvero bisognava lottare per difendere quell'idea e il comitato promotore non a caso proprio per questi motivi nel momento in cui si è riunito la prima nel corso della prima adunanza ha stabilito all'unanimità di proporlo come proprio presidente e allora caro presidente ti cedo la parola perché tu ci possa presentare il tuo Mario grazie 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 a tutti quelli e a tutte quelle che stanno ascoltandoci beh non è facile per me in questi pochi minuti vorrei dire due cose una quanto e come Mario è stato per me un grande amico e poi come quanto è stato per me un maestro il maestro la nostra amicizia è cominciata tanti anni fa nel 70 è continuata per tutta la sua vita e continua con la sua famiglia ho avuto il privilegio di essere spesso a casa sua prima a Piadena e poi a Drizzona poter conoscere le sue cose i suoi disegni i suoi giochi i suoi strumenti musicali lui è stato nella nostra casa di Roma è stato a Cervara nel paesino da dove vi sto parlando ho frequentato la sua classe ho conosciuto i suoi alunni ho lavorato con loro direi che il segno più intimo della nostra amicizia è stato quando Mario ha accettato di ricevere ciascuno per una settimana i miei tre figli che hanno avuto il privilegio di averlo come maestro ma questi sono fatti privati vorrei dedicare quel tempo che mi rimane a parlare invece del maestro di come Mario mi ha insegnato cosa significa far scuola e come mi ha dato gli elementi fondamentali che sto utilizzando in questi anni per parlare ad altri maestri in vari paesi del mondo quando Mario morì il presidente del consiglio di allora lo definì un piccolo maestro che ha fatto grande la scuola italiana mi piacerebbe che durante questo anno ragionassimo insieme su perché e quanto Mario è stato invece un grande maestro e perché non ha potuto fare grande la scuola italiana vorrei limitarmi a tre citazioni a tre affermazioni di Mario che spero possano essere come tre piste da sviluppare in questo anno a lui dedicato una in qualche modo l'ha già citata lui nel filmato che abbiamo ascoltato ridicendole in un altro modo ma nella sua forma originale era un intervento che lui ha fatto al convegno di Almata in Unione Sovietica prima che cadesse il muro di Berlino nel 76 inizia la sua relazione con queste parole il bambino non è proprietà dei genitori né della scuola né dello Stato quando nasce ha diritto alla felicità un vero manifesto dell'educazione della libertà dei bambini del loro diritto a sviluppare ciascuno le proprie attitudini e non le aspettative della famiglia della scuola o della società perché questo è l'unico cammino che conduce alla felicità il secondo è una testimonianza che lui ha dato in una delle ultime interviste rilasciate raccontando il suo primo giorno di scuola San Giovanni in Croce e dice fu il mio primo giorno di scuola San Giovanni in Croce al principio degli anni 50 mentre parlavo uno dei bambini si alzò dal banco e andò a guardare cosa succedeva sui tetti di fronte da poco a poco anche gli altri fecero lo stesso e allora mi domandai lasciar fare o reprimere così mi alzai e insieme a loro mi misi a guardare il mondo dalla finestra questa frase mi sembra che possa essere considerata una sintesi delle scelte e del pensiero pedagogico di Mario lui sta con i bambini dalla loro parte condivide le loro scelte sempre e insieme a loro si mette a guardare il mondo dalla finestra già quel primo giorno la scelta di fondo è fatta non reprime non richiama l'ordine ma si unisce ai bambini e la finestra dell'aula è aperta la sua scuola è aperta interessata al mondo e quindi da quell'aula si uscirà e in quell'aula entreranno i testimoni della vita vera quella che si svolge fuori della scuola Mario non avrebbe mai scelto come slogan la scuola non si ferma se il mondo si era fermato il terzo brano che vorrei citare è del 74 all'inizio del suo ultimo ciclo scolastico quello che abbiamo visto nelle immagini quello che io ho conosciuto e dopo una settimana di scuola della prima classe elementare Mario scrive questa lettera ai genitori dopo una settimana passata con i bambini posso affermare che essi sono tutti di normale intelligenza pur rivelando evidenti differenziazioni di carattere e diversi livelli di maturazione dovuti alle situazioni ambientali in cui ciascun bambino è cresciuto tutti i bambini quindi salvo imprevedibili fatti di eccezionale gravità sono promossi sin da ora alla quinta elementare con la garanzia del raggiungimento della preparazione minima richiesta dai programmi scolastici e se questo non si verificherà la responsabilità sarà del maestro e della scuola per non aver messo in atto le tecniche educative adatte per sviluppare al massimo le attitudini naturali e l'intelligenza del bambino dice chiaramente che lo scopo della scuola non è verificare che se i singoli alunni hanno raggiunto i livelli previsti ma promuovere promuovere tutti specialmente gli ultimi e non perché sono bravi gli alunni ma perché è brava la scuola bravo il maestro a mettere in atto le tecniche educative adatte a sviluppare al massimo le attitudini naturali e l'intelligenza di ciascun bambino e di ciascuna bambina e se questo può sembrare a qualcuno velleitario o paradossale si tenga conto che la legge di più alto livello giuridico che abbiamo in Italia dopo la Costituzione e che l'hanno tutti i paesi del mondo è la Convenzione dei diritti dell'infanzia definita e approvata dalle Nazioni Unite 15 anni dopo della lettera di Mario che ho letto prima e la Convenzione all'articolo 29 recita gli stati convengono che l'educazione del bambino deve avere come finalità favorire lo sviluppo della personalità del bambino nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini in tutta la loro potenzialità e solo così la scuola potrà rispondere all'alto compito che le affida la nostra Costituzione che come già è stato detto Mario amava tanto quell'articolo 3 che dopo aver solenemente proclamato l'uguaglianza dei cittadini prosegue affermando è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impedendo il pieno sviluppo della personalità umana la scuola pubblica è senz'altro uno degli strumenti più importanti per realizzare questo fondamentale obiettivo della democrazia e Mario è stato maestro di questo grazie Yuri non si sente era era il mio terrore quello di cadere in questo tramello e ce l'ho fatta grazie Francesco per avermi avvisato quindi Francesco ti stavo ringraziando per il tuo compito del presidente questo esatto esatto ti stavo ringraziando per le tue parole così importanti perché ci hanno davvero riportato a uno dei punti fondamentali della figura di Mario cioè questa sua attenzione nei confronti dell'infanzia questa sua attenzione proprio nei confronti del bambino la sua era una scuola a misura di bambino egli partiva dal bambino io ricordo perfettamente quando diceva che entrava in crisi tutte le volte che doveva passare dalla quinta alla prima perché si trovava di fronte un materiale umano completamente nuovo che non conosceva e sul quale nei cinque anni successivi doveva costruire ex novo diciamo così la sua azione educativa e questo davvero riprende molto di quello che tu hai detto però adesso è il turno di Carla Ida Salviati che è una saggista è un'esperta di scuola di educazione alla lettura e di letteratura per l'infanzia e Carla Ida è stata anche la direttrice dei periodici scolastici della Giunti per moltissimi anni ed è stato proprio per Giunti che nel 2015 ha curato il volume Mario Lodi Maestro un volume che forse molti di voi conosceranno che avranno letto perché è un volume che si è riproposto di raccogliere alcune tra le pagine più belle più importanti più appassionanti che Carla Ida aveva ritrovato attraverso una lettura attenta all'interno di C'è Speranza se questo accade al Bo il primo fondamentale diario pedagogico scritto da Mario pubblicato nel lontano ormai 1963 e appunto poi che aveva ritrovato vita attraverso questa importante operazione editoriale e allora io chiedo a Carla Ida di parlarci di Mario Lodi scrittore un'altra parte così importante della sua attività della sua vita grazie Carla Ida grazie a voi grazie a voi tutti e buonasera dunque parlare di Mario Lodi scrittore significa parlare di una parte importantissima del lavoro di Lodi e vi racconterò una piccola aneddoto che mi è capitato proprio faccio riferimento a quanto Iuri Meda diceva proprio adesso quando andavo in giro a presentare la mia antologia da C'è Speranza se questo accade Alvò più di una volta mi sono trovata davvero più di una volta persone di fronte che non avevano compreso che l'autore dice Speranza se questo accade Alvò fosse lo stesso di C.P ecco a questo punto succedeva sempre la stessa cosa mi venivano attorno e mi dicevano ma sa che per me C.P è uno dei ricordi più belli della mia scuola per me C.P è stato un amico persone adulte insegnanti in genere che non avevano messo in relazione le due cose quindi può succedere che il Mario Lodi scrittore sfuga un poco ma l'amore che gli adulti possono conservare per un personaggio della letteratura evidentemente ha toccato delle corde ha toccato delle corde molto profonde se a distanza di anni ci si ricorda di questi personaggi di questa dell'emozione che si è vissuta attraverso queste letture ecco io per presentare naturalmente tutti lo conoscono ma per ricordare l'importanza di Mario Lodi che ha scritto anche letteratura per adulti oltre che per ragazzi ho scelto appunto tre libri e li ho scelti e ve li propongo in questo momento non tanto come diciamo con un ordine cronologico ma con un ordine in qualche modo di destinatario e allora perché no perché no CP CP è veramente un libro che si fa ricordare dagli adulti ma proviamo ancora oggi l'emozione di proporlo a classi di bambini e provate per credere vedrete come sono attratti da questo personaggio quanti anni ha CP oggi? ecco questa immagine non ricorda che CP nasce nel 1961 e nasce da una scrittura collettiva c'è una grande continuità tra la pedagogia di Mario Lodi ovviamente e la sua letteratura vedete che l'autore è e sarà sempre Mario Lodi e i suoi ragazzi ha voluto Mario ricordare sempre l'apporto dei bambini dei suoi bambini mentre faceva scuola e addirittura nel diario c'è speranza se questo accade al bo lui mette un piccolo titolo per spiegare la sua attività didattica come nacque la favola vera di CP ecco favola vera e questa è l'essenza fondamentale di questo libro così felice e così fortunato siamo nel 2021 e quindi questo libro ha 60 anni quest'anno e oggi ancora se lo leggiamo a dei bambini piccoli ne restano assolutamente incantati e quante volte poi possono diventando più bravi più abili anche riuscire a riprendere solo e goderselo tutto per sé ecco io allora sento il dovere di leggere una piccolissima parte qualche riga dal primo capitolo che è quello della nascita di CP e dove si possono trovare tanti elementi che detti in altro modo già sono stati accennati da tutti coloro che mi hanno preceduto la nascita di CP CP è un passerotto ovviamente nasce nel suo nido e appena le uova si schiudono la mamma fa un grande giro un grande volo attorno all'albero e poi ritorna li osservò attentamente come erano belli pur senza piume erano i suoi figlioli allungavano il collo verso la mamma aprivano il becco e chiamavano uno il più piccino era il più birichino sbatteva le aluce e si girava di qua e di là come se il nido fosse troppo stretto per lui i fratellini facevano chip chip con garbo lui invece gridava cipì cipì e non la smetteva più ecco lo chiameremo cipì disse la mamma a sentire quel verso strano il babbo e la mamma dicevano ma perché piangi chipì cipì voglio uscire di qui gridava lui stai qui ora ti copro con le mie piume calde gli sussurrava la mamma e gli altri due si addormentavano subito invece lui si dimenava chipì cipì voglio uscire di qui e ci voleva del bello e del buono e tutta la pazienza della mamma per convincerla a dormire come i suoi fratellini e una volta che babba e mamma non erano nudo com'era salto fuori dal nido e cominciò a girare per i tetti finché arrivato sul ciglio guardò giù e gli girò la testa capiamo subito quanta identificazione i bambini mettono in moto davanti a questo cucciolo che disobbedisce ha voglia di andare ha voglia di crescere in chipì c'è la vita e probabilmente questo è uno degli elementi più attrattivi c'è la vita raccontata come una fiaba c'è la nascita c'è l'amore crescita l'amore c'è anche la morte perché nei libri di Mario Lodi c'è quasi sempre anche la presenza della morte e poi c'è la nuova nascita così nel ciclo nel ciclo della vita ecco volevo farvi vedere l'edizione dei 50 anni che la casa editrice in Audi ragazzi ha messo in moto appunto nel cinquantenario CP ha una vitalità straordinaria ha una vitalità narrativa come avete sentito ma anche una vitalità editoriale e quindi mi piace proprio perché si è parlato di Mario come figura internazionale dirvi le lingue nelle quali recentemente è stato tradotto ancora attivi i contratti sono in castigliano in greco e in arabo in arabo tra l'altro della più importante casa editrice egiziana il mondo arabo è molto molto ampio ma in passato è stato tradotto pensate voi in tailandese in portoghese portoghese con tutto il Sud America in basco in galiziano in catalano in tedesco e di nuovo lontano in giapponese ecco quindi Mario va nel mondo col suo CP va nel mondo e dura nel tempo e resta nella memoria e questo mi pare veramente straordinario perché la vitalità di un libro per bambini dopo 60 anni guardate che è un caso davvero eccezionale perché tutto invecchia anche la scrittura il secondo libro che vado a presentarvi è un libro per bambini un pochino più grandi come vedete è Il mistero del cane nell'edizione Giunti Junior nella collana colibri ha delle belle illustrazioni molto giuste di Biletta Liberani ecco questo libro fa molto pensare gli adulti Mario lo scrive nel 1989 racconta in soggettiva a differenza di CP sceglie questa chiave e racconta di una sua infanzia che rimane anche molto vaga come collocazione del tempo questa storia incomincia un giorno di Natale di tanti anni fa quando io avevo dieci anni e non volevo indossare i pantaloni lunghi ecco anche questo incipit è veramente straordinario è un incipit quasi fiabesco ma ci sono tantissimi elementi di realtà nel mistero del cane e al centro di tutti c'è un interrogativo etico perché questo cane viene trovato sul bordo di una strada morente viene trovato da questo gruppetto che vedete qui di ragazzi che sono i veri protagonisti non un protagonista individuale a Mario piaceva molto questo aspetto ma un gruppo di bambini questi bambini lo raccolgono e questo cane sta molto male c'è quindi rappresentato la domanda che cosa facciamo e c'è rappresentata anche la contrapposizione dell'infanzia agli adulti che vorrebbero sopprimerlo sopprimerlo per non farlo soffrire sopprimerlo anche perché se mai fosse soffravvissuto questo cane sarebbe stato un cane meno matto un cane zoppo un cane che nella realtà contadina dove Mario ha sicuramente trascorso la sua infanzia aveva un rapporto utilitaristico con gli animali e quindi è un animale inutile è una bocca in più da sfamare in qualche modo ecco il mistero del cane pone l'interrogativo etico forse più grande e solo un autore come Mario Lodi con le sue mani delicatissime può essere in grado di raccontare una storia a dei bambini di questo spessore perché un cane misterioso è un cane che va e viene è un cane di cui non si sa nulla per più di metà del libro non ha neanche un nome è un cane non è un cane dei cartoni animati di quelli che parlano come gli uomini è proprio un cane cane si comporta da cane e sparisce scompare è quindi una storia con un finale aperto che chiede in qualche modo al lettore di prendere posizione morale e anche di inventarsi dei possibili finali il terzo libro che vi voglio presentare lo vedete qui è nell'edizione giunti ultima uscita nel 2020 è il corvo questo libro attenzione è stato scritto sempre per la casa editrice Giunti allora si chiamava Benporad Marzocco Giunti Benporad Marzocco è stato scritto nel 1972 voglio sottolineare questa questa data perché parla di un tema non facile e ancora una volta una dimostrazione del coraggio e della coerenza che Mario Lodi ha messo nella sua vita e che ha riproposto nella sua scrittura di che cosa si parla del corvo? si parla di un momento forse il più tragico momento per l'Italia del Novecento momento che oggi riconosciamo come guerra civile cioè mesi successivi alla l'otto settembre quando l'Italia è divisa in due ha lo straniero sopra la testa e le famiglie si spaccano gli amici si spaccano chi da una parte chi dall'altra guardate che non sono molti anzi pochissimi sono i libri per ragazzi ma questo è un libro ottimo anche per gli adulti che parlano di questo periodo storico che ancora oggi ci turba indiscutibilmente Mario ha questo coraggio e lo ha nel 1972 quando proprio nessuno parlava di questi temi allora anche dal Corvo voglio leggervi un brano per dare anche un po' come dire il sapore della prosa della limpidezza della prosa di Mario che è una delle caratteristiche che lo rendono davvero un grande scrittore Mario ripropone in questo libro una parte della sua vita è molto autobiografico anche questo è scritto in soggettiva e racconta quello che gli accadde durante quegli anni quei mesi e quell'anno tremendo perché siamo nell'inverno del 1944 Mario è partigiano e viene arrestato viene arrestato e deve essere condotto in una caserma dove probabilmente lo aspetta la morte sono anni momenti terribili guardate come descrive il milite il giovane milite suo coetaneo che lo accompagna per un pezzo di strada a piedi in questo inverno in questa pianura che è il suo ambiente di vita e che sa descrivere così bene nella zona tra Cremona Lodi e poi dovrebbe essere portato a Milano guardate come avviene questo strano incontro tra due coetane è una sgambirrata ma fa bene disse il milite battendo i piedi per staccare la neve che vi si era appiccicata voltò il moschetto a canna in giù si infilò i guanti e mi indicò il marciapiede presto fumo sulla strada giuseppina camminiamo un bel po' affiancati e in silenzio sulla strada dritta e interminabile ogni tanto passava qualche camionetta tedesca la neve abbondante aveva cancellato tutto persino la strada pareva di andare in un deserto piatto tutto bianco punteggiato dalle macchie nere delle piante siamo soli come in alto mare si fermò girò lo sguardo tutto intorno come abbagliato da tanto biancore anche da noi la campagna è così piatta come un biliardo e grande come un mare di dove sei? ti chiesi delle miglia regio giù di lì due corvi ci sorvolarono altissimi gracchiando corvi mai mangiato il risotto fatto con il brodo di corvo? disse disse guardandomi per la prima volta negli occhi aveva due occhi merissimi e vivi una volta mia madre lo fece in modo squisito ma tu non sei un caffone disse a un tratto a guardarti con quella barba trascurata il tabarro e col bacco uno può pensare a un bandito potrei esserlo hai studiato? sono maestro dal giorno che scoppiò la guerra ah esclamò maestro e che cosa insegnerai di bello ai tuoi ragazzi? ma tante cose per esempio per esempio questa passeggiata due uomini che vanno su una strada potrebbero essere due amici e invece uno porta in prigione l'altro ecco un passo qualunque di un libro straordinario ma quante cose dice quante cose sa dire al lettore ecco io spero che questo centenario faccia ritornare non dico CP perché CP c'è già ma anche gli altri libri di Mario Lodi nelle scuole spero che i suoi editori vogliano ancora valorizzarlo e che davvero si possa con questo con questa parte completare la figura a tutto tondo di questo grande maestro ma anche di questo grande scrittore e narratore grazie per questo tuo intervento davvero molto bello molto profondo come sempre questa lettura non scontata dei suoi libri che sono davvero come tu dici un esempio di prosa limpida chiara sempre tra l'altro espressione della grande pacatezza d'animo che tutti noi che abbiamo conosciuto Mario gli riconosciamo e ci ricordiamo di lui a questo punto viene il momento di dare la parola a un altro membro del comitato promotore del centenario che è Marco Rossidoria che ho il piacere di presentarvi non potrei dire tutto quello che ha fatto ma mi piace ricordare una delle cose che per me lo rendono speciale cioè il fatto di essere stato uno dei primi maestri di strada a lavorare nel nostro paese a lavorare soprattutto all'interno di un contesto come quello dei quartieri spagnoli di Napoli che lo hanno reso davvero molto noto e amato da tanti altri maestri nel nostro paese ma Marco è stato anche sottosegretario all'istruzione dal 2011 al 2014 e in questo momento attualmente da poco tempo è diventato vicepresidente della richiesta sociale con i bambini che è nata nel 2016 per attuare i programmi del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile il 4 marzo del 2014 sulle colonne dell'unità proprio in occasione della purtroppo morte di Mario Marco ha pubblicato un commosso addio a Mario Lodi e lo ha definito un maestro popolare ecco mi piace passare la parola a Marco chiedendogli perché Mario Lodi era un maestro popolare buonasera ma io intanto ho una grande gratitudine per poter partecipare a questa preparazione di un anno che deve essere di diffusione del pensiero Mario Lodi perché quando uscii Paese Sbagliato io ero al liceo e lessi questo libro mi ero infatuato qualche anno prima di lettera a una professoressa come tanti della della mia generazione e pensavo come tanti poi fecero all'insegnamento come leva di riscatto soprattutto per chi era in condizioni sociali più difficili ma in realtà io nutro naturalmente serbo un grandissimo rispetto per Don Milani ma Il Paese Sbagliato per me fu il libro che mi fece poi insieme a un anno a Pietralata che prima avete giustamente citato fatto balenare l'idea di far presto a diventare maestro e infatti finito il liceo presi la licenza magistrale feci il primo concorso non andare all'università e diventai rapidamente maestro e poi seguì il movimento di cooperazione educativa per capire come dovevo farlo a fare il maestro e quindi in qualche modo Mario Lotti è stato per me uno degli ispiratori di scelte che hanno determinato poi la mia vita quindi sono molto grato per poter essere qui a lavorare con voi per far riuscire questo anno importante penso che sia importante per i ragazzi e per le ragazze innanzitutto che vogliono prendere la strada di insegnante vogliono accompagnare i bambini piccoli adolescenti grandi all'apprendimento dentro al sistema scolastico o agli educatori che lavorano anche fuori dalla scuola questo libro e gli altri libri di Mario avete già parlato tutti mi diedero fin dall'inizio e mi danno ancora oggi il senso di un metodo e di un pensiero in cui la riflessione e l'azione vanno sempre insieme è un mestiere sapiente creativo e artigiano dove si impara facendo però con un rigore di metodo che c'è prima e si affina poi e durante l'opera ora rispondo alla domanda popolare non nel senso di aderire a criticamente al senso o allo spirito supposto del popolo ma nel senso di quanto è stato citato prima da Cosetta la bussola nella costituzione e da quanto ha detto Francesco prima in particolare nell'articolo 3 della costituzione articolo 3 soprattutto il comma 2 citato è la leva perché qualunque cittadino anche impropriamente definito del popolo possa aspirare per sé per i suoi figli a fare in libertà qualunque cosa nella vita perché la Repubblica soprattutto attraverso la scuola ha detto bene Francesco dà l'opportunità di poter scegliere di più di quanto abbiano scelto o potuto scegliere i tuoi genitori nel 1948 alla fine degli anni 40 e poi all'inizio degli anni 50 come è stato detto Mario Lodi insegna a San Giovanni in croce ci possiamo immaginare poi ci sono i resoconti che ce lo raccontano è difficile dirlo adesso era un'altra Italia ma insomma quella parte d'Italia come ancora più lo è stata anche più a lungo tanta parte del mezzogiorno era fatta di persone di campagna contadini mezzadri braccianti che che vivevano con poco lavorando tanto con fatica immane con un'attesa di tempo di vita relativamente breve circa la metà di quella che è adesso e mandare i propri figli a scuola voleva dire pensare che i tuoi figli e quindi il futuro che ognuno di noi proietta nei propri figli potesse essere diverso ecco incontrare un maestro come Mario che prende cura di ciascuno dei bambini in quel modo in quegli anni dopo il fascismo in cui sostanzialmente la scuola pubblica anche nel fascismo ha avuto una grande funzione ovviamente di alfabetizzazione voleva creare obbedienti soldati nel caso dei maschi casalinghi ancora più obbedienti nel caso delle femmine se i maschi potevano andare a scuola perché spesso non ci andavano e invece ecco un maestro che come fulcro primo di ogni sua azione quotidiana di insegnante la libertà la libertà quindi non solo di tutti insieme standard ma di ciascuno e di ciascuna per come si è fatti un concetto che ancora adesso cari amici fa fatica a vivere nella scuola non c'è l'attenzione la sensibilità sempre di pensare che la scuola è perché siamo tutti uguali la scuola pubblica ma sapendo che siamo tutti diversi e da piccoli siamo tutti diversi uguali diritti ma diverse persone ecco questo è il senso che penso che dobbiamo dare anche insieme a tutti gli altri questo anno che ci accingiamo a preparare poter scegliere nella vita oggi in forme diverse i poveri bambini perché sono poveri per condizioni economico sociali ma anche per mancanza di offerte di riscatto sono purtroppo ancora troppi su 9 milioni e mezzo di bambini 3 milioni e mezzo sono poveri di cui quasi un milione e mezzo in povertà assoluta e stanno aumentando in un paese ricco in un paese che fa pochi figli quindi questo messaggio nelle forme ripeto nuove che non sono quelle della pianura padana degli anni 40 ma nelle forme attuali è ancora assolutamente all'ordine del giorno ed è all'ordine del giorno il fatto che questo riscatto nel nome della libertà e del riconoscimento di ciascuno avviene grazie alla cooperazione come abbiamo visto nei filmati tra i bambini e tra i ragazzi a lavorare in maniera cooperativa avete giustamente citato Mario Lodi per il suo legame profondo con il movimento di cooperazione educativa un movimento internazionale frenetianato in Francia e in Italia diffusasi molto che adesso diciamo è senso comune se si leggono le indicazioni nazionali sembra che l'abbia scritto il movimento di cooperazione educativo salvo poi applicarlo che è un'altra storia ancora ma a quel tempo non era certo così oggi appunto sto lavorando per contrastare questa povertà così diffusa e purtroppo crescente come sono crescenti le disuguaglianze e penso che anche con i bambini debba dare come impresa sociale il suo contributo a un ricordo ragionato non retorico di questo signore Mario Lodi di questo maestro Mario Lodi che prima del tempo ha pensato a quello che oggi si usa dire fin troppo quasi ogni giorno la comunità educante ma lui la comunità educante già la pensava mentre faceva scuola si occupava della biblioteca comunale si metteva in gioco discutendo con tutti del come il borgo la città il rione potessero diventare luoghi di esperienza educativa e l'ha continuato a fare per tutta la vita fuori dal chiuso delle aule scolastiche e questo imparare stando bene giocando ma con un gioco serio un gioco rigoroso un gioco che fa prendere non un gioco fine a se stesso in maniera attiva per cui vi è un'implicita forte formidabile richiesta di mettersi in gioco rivolta a ciascuna bambina e a ciascun bambino per cui si sentono ognuno protagonista vero di un'opera comune ognuno con la sua parte con la sua parte così come uno è e poi con l'opportunità di un'eguaglianza diversa e concludo che non è un'eguaglianza appunto standard ma un'eguaglianza che va verso le parti deboli di ciascuno per cercare di aiutare a rafforzarle verso le parti forti di ciascuno fomentando i talenti e anche scoprendo terza parte le parti meno conosciute o sconosciute di ciascun bambino perché se lavori in cooperazione guardando a ciascuno ti puoi mettere non solo come singolo maestro ma come comunità appunto di fare questa opera ecco io penso che noi dobbiamo prendere questo cammino e dobbiamo usare questo anno importante per mostrare ai giovani che vogliono iniziare a disegnare qual è la via attiva non trasmissiva creativa aperte a tutte le parti della mente che mette insieme il rigore delle lettere della matematica delle scienze della geometria con i nuovi media e con il loro uso piente critico consapevole e insieme il teatro il raccontare storie il rifare giornalini nelle nuove forme il disegnare il muoversi il giocare ecco questo è quello che dobbiamo mostrare che la scuola può essere una cosa seria e al tempo stesso creativa divertente e vicino alle persone grazie Marco grazie per aver davvero diciamo così toccato uno dei tasti davvero molto importanti quando si vuole affrontare una personalità così complessa come quella di Mario Lodi che credo sia quello della solidarietà un sentimento che lui davvero conosceva e sono convinto anch'io come tu hai detto che davvero fosse in grado già allora di comprendere questo termine che oggi vedo poi tra l'altro anche sui giornali in questi giorni sta andando molto di moda che è quello di comunità educante Mario faceva parte voleva far parte della sua comunità e lo faceva anche al di fuori come hai detto tu del chiuso delle aule facendo lo hai ben ricordato lavorando nella biblioteca ma anche per esempio cosa che pochi sanno svolgendo il ruolo proprio anche di sedere all'interno del consiglio comunale stesso della sua cittadina e lo ha fatto per molto tempo insomma quindi ecco un ricordo che ci riporta anche a questa dimensione così importante nella vita del nostro maestro di Piadena e a questo punto è un piacere per me introdurre l'ultimo relatore l'altro membro del comitato promotore del centenario che è Giovanni Biondi che è stato dal 2009 al 2013 capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie del ministero dell'istruzione e che attualmente è presidente dell'istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa in dire di Firenze il quale se ricordate prima abbiamo già detto ha già iniziato con una serie di iniziative quelle video interviste della quale vi abbiamo parlato a mettersi in moto per supportare appunto questo centenario e quello che forse pochi ricorderanno il legame che Mario Lodi ha avuto con l'indire perché Mario Lodi è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di indire dal ministro allora ministro Tudio De Mauro era molto amico di Mario dal 27 febbraio del 2001 fino all'anno successivo il 2002 quando poi insieme con il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione avrebbe avrebbe lasciato questo incarico e quindi a questo punto è un piacere per me introdurre Giovanni Biondi e chiedergli cosa Mario ha lasciato come testimonianza sul tema che oggi in dire sta portando avanti il tema dell'innovazione didattica un tema oggi di grande attualità come credo abbia sottolineato bene alla fine del suo intervento anche Marco Rossidoria Sì grazie Yuri cercherò di essere breve allora comincerò di fondo noi quest'anno sapete abbiamo l'edizione di Didacta che è arrivata alla quarta edizione in Italia e quest'anno durante tutta l'edizione di Didacta saranno attive due mostre virtuali una su Mario Lodi e l'altra su Gianni Rodani e lo dico con un po' di orgoglio diciamo ringraziando il lavoro che ha fatto Pamela Giorgi su entrambe le mostre perché valorizziamo il tema dell'innovazione Indira è nato diciamo ha una lunga storia interrotta da varie vicende storiche diciamo ma nasce idealmente nel 25 con la mostra didattica nazionale di Lombardo Radice quando lui attraverso questa mostra voleva dimostrare che si poteva fare scuola in modo diverso a quello di imparare a memoria il libro di testo e del diciamo trasmettere un sapere insegnato e quindi creò questa mostra didattica nazionale poi è diventata ha avuto varie vicende e si intreccia un po' con la mia storia personale perché io a parte aver fatto il capodipartimento e tante altre cose nella mia vita ma io ho cominciato come insegnante elementare ho vinto il concorso che avevo 19 anni avevo un ragazzino praticamente e dico questo perché ho avuto la fortuna negli ultimi due anni di scuola di avere in classe con me i tre ragazzi che venivano dalla scuola di Don Milani quando il priore si ammalò mandò i ragazzi alla scuola pubblica diciamo e io sono stato compagno di banco di uno di questi e ho avuto modo quindi di conoscere l'esperienza di Don Milani e di affacciarmi diciamo a questo balcone dell'innovazione attraverso Barbiana ma poi anche attraverso Mario Lodi perché io quando mi catapultarono vincendo il concorso in una scuola in una classe io non sapevo proprio assolutamente cosa fare e come e i primi riferimenti erano questi avete parlato del giornalino del prima ancora ciclostile del limografo forse qualcuno se lo ricorda e quindi erano veramente e quindi l'innovazione era per me è stato un mestiere che ho imparato sul campo non l'ho imparato certo sui libri di pedagogia l'ho imparato sul campo e la prima cosa che mi ha sempre colpito e non parlo solo di Mario parlo anche di Bruno Sciari di altri grandi maestri è stata quella la prima cosa è stata quella di aprire la porta della classe la classe è aperta si comincia a lavorare su degli spazi che sono i corridoi che sono che quindi comincia a creare una libertà diciamo di movimento di che andava contro spesso con quello che facevano i miei colleghi più anziani era quello di tenere la disciplina di organizzare di richiamare i ragazzi come è stato citato precedentemente eccetera e questo portava nasceva da un'attenzione ai ragazzi quello che io ho poi con cui poi mi sono confrontato quando ho conosciuto Mario diciamo più avanti era questa attenzione ai ragazzi cioè io credo che questo sia uno dei diciamo dell'imprinting dell'insegnante soprattutto di scuola elementare quella dell'attenzione ai suoi ragazzi prima di tutto perché la figura di riferimento unica diciamo in qualche modo o principale ed è meno preoccupato di insegnare una materia ma è più preoccupato diciamo dell'aspetto della crescita dell'educazione eccetera quindi mi sono marcat poi naturalmente proseguito la mia carriera il secondo passaggio è stato con Lucio Lombardo Radice con cui io sono stato molto amico abbiamo che ho intercettato proprio quando cominciato andai alla biblioteca di documentazione pedagogica anzi nemmeno era il vecchio centro didattica nazionale scoprì tutti i materiali della mostra didattica nazionale negli scantinati diciamo molti alluvionati che erano stati alluvionati nel 66 di tutti i materiali della mostra di dati nazionali scoprì questo grande filone dell'innovazione della e conobbi poi Lucio che era il figlio di Giuseppe Lombardo Radice e che era direttore di riforma della scuola forse molti di voi se lo ricorderanno e quindi è stato il secondo passaggio diciamo per me importante sui temi dell'innovazione poi quando Mario è venuto al consiglio di amministrazione di indire io ero diciamo venivo dalla precedente esperienza si chiamava biblioteca di documentazione pedagogica e quindi per me quando ho conosciuto Mario parte l'emozione la cosa eccetera però la cosa su cui ci siamo subito trovati d'accordo era che questo istituto doveva rimanere fedele alla sua storia e doveva essere uno strumento per accompagnare l'innovazione nella scuola italiana e io questo ho cercato di fare e non so se ci sono riuscito naturalmente però ho sempre cercato di dedicare l'istituto non a carriere accademiche o diciamo a una ricerca speculativa o strettamente universitaria ma a connettere la ricerca con sostegno all'innovazione didattica perché credo che di questo ci sia bisogno perché c'è una frattura fra il mondo universitario e il mondo della ricerca e il mondo della scuola perché questi mondi spesso non si parlano e questo istituto doveva fare da cerniera accompagnando diciamo i processi di innovazione del sistema scolastico questa fu diciamo le prime discussioni insieme nel consiglio d'amministrazione che era preseduto a Lucio Guasti aveva Luigi Guerra al suo interno aveva Tognon insomma aveva delle persone di grande rilievo e questa fu diciamo la scelta di indirizzo che io poi ho cercato di conservare e anche quando sono stato al dipartimento ho sempre cercato di promuovere l'innovazione della scuola di sostenere i processi di innovazione e credo che oggi di questo abbiamo bisogno e di recuperare anche nei livelli scolastici diciamo successivi non voglio dire superiori successivi alla scuola primaria questa attenzione agli studenti questa attenzione ai singoli studenti alle diversità alla perché come diceva nel brano che ha letto prima Tonucci che è bellissimo il tema è che se non riusciamo a portare a successo formativo i nostri studenti dobbiamo cominciare a guardarci allo specchio a cominciare a guardare che era un po' il tema della lettera della professoressa quando gli diceva vabbè è troppo comodo Pierino figlio del farmacista è nato per la scuola è un prodotto costruito per il successo scolastico ma i miei studenti i miei ragazzi figli dei mezzatri è su loro che devi devi misurare diciamo i tuoi strumenti le tue le tue capacità eccetera mentre invece oggi la scuola ancora chiede a ragazzi di adattarsi al modello di e quando non ci riescono è perché non studiano perché sono indietro perché difficilmente la scuola fa un'autovalutazione e una una critica diciamo ai linguaggi alle metodologie al modello trasmissivo che ancora utilizza e quindi abbiamo bisogno di di questi grandi insegnamenti e di questi grandi maestri perché la scuola è diciamo ancora questa deve anzi recuperare deve sempre avere questa attenzione agli studenti e questa logica di fare qualcosa per loro e questa credo che sia una delle cose più importanti al di là della metodologia A o della metodologia B qualunque sia diciamo la metodologia che tu adotti e la cosa l'importante è che tu faccia qualcosa per i tuoi studenti anche magari fuori dalle regole come a questo punto bisognerebbe anche fare spesso bene grazie grazie anche a Giovanni Biondi per questo intervento che ritengo molto importante e mi ha fatto venire in mente una cosa parlando con i miei studenti voi Marco Francesco Giovanni chi ha parlato del Mario Maestro insomma ha sottolineato proprio questa importanza di portare questa testimonianza in questo anno che arriva in questo anno che è ormai imminente per proporre un modello nuovo un modello diciamo così in qualche modo che guardia Mario Lodi per rinnovare il modo di fare scuola io ho la fortuna di insegnare all'interno del corso di laurea di scienze della formazione primaria del mio ateneo e molto spesso ho avuto diciamo così modo di presentare Mario Lodi il suo modo di fare scuola il suo modo di essere maestro sapete che cosa mi rispondono molto spesso i miei studenti ma professore è difficile e io quando mi dicono così gli faccio sempre un esempio e gli porto quel testo bellissimo meraviglioso che sta scritto all'interno di Cia Speranza se questo accade al vo quando Mario Lodi parla della sua grande crisi di quando arriva a scuola dopo essere stato formato per diventare maestro all'interno degli istituti magistrali fascisti del periodo fascista e si scontra con i bambini che non lo ascoltano che vanno fuori dalla classe come diceva Francesco e sono felici ma che poi quando rientrano in classe si fanno morti col cervello spento dice Mario e recentemente proprio anche preparando questo questo intervento mi è capitato sotto gli occhi un intervento bellissimo di Mario sono poche righe ma ve le voglio leggere prima di chiudere questa bellissima giornata sono alcune delle righe tratte dall'introduzione che Mario scrive nel 1973 per una sua carissima amica Lucia Tumiati che aveva pubblicato una scuola da bruciare un atto di denuncia fortissimo che nessuno conosce più ma che è meraviglioso e Mario Lodi scriveva all'interno di quell'introduzione alibi non ce ne possono essere per gli educatori nessuno come gli educatori ha il dovere di pretendere da se stesso e dagli altri la ricerca continua della verità se un insegnante in buona fede non può tacere e mettere a tacere i giovani che si aprono alla vita in un mondo pieno di delitti compiuti da chi tace o falsifica la verità per difendere privilegi e potere deve andare in crisi e rigenerare se stesso nell'installazione di nuovi rapporti con i ragazzi con le famiglie con la società ecco credo davvero che non abbiamo più alibi credo davvero che come educatori dobbiamo intraprendere quella strada quel segno che lui ci ha lasciato che ho citato all'inizio e nel corso di questo anno davvero insegnare ai ragazzi che sono convinto accoglieranno con tanta passione questo testimone e a questo punto un po' malincuore devo dirvi perché è stata un'esperienza per me molto emozionante a livello personale umano ma anche a livello professionale mi incombe l'obbligo di chiudere questa bella giornata di oggi e lo faremo sempre idealmente ripassando la parola al nostro Mario e lo faremo mandandovi un brano tratto dalla bella intervista fatta dalla splendida signora che vedete qui Carlaida Salviati che nel 3 febbraio del 2011 ha intervistato Mario proprio in occasione della riedizione di C'è Speranza se questo accade al vo da parte dell'editore della casa editrice Giunti dove all'epoca Carlaida era a lavorare insomma e credo che Carlaida abbia avuto una gran parte insomma in quella bella operazione e importante operazione editoriale e quindi prego la regia di mandare il filmato di Mario ringrazio tutti saluto tutti e vi auguro una buona serata avevi dei bambini anche difficili spesso ti venivano assegnate classi difficili attraverso quali sistemi sei riuscito a portare anche bambini con difficoltà a leggere scrivere a venire a scuola serenamente ma io se devo fare un esame di coscienza di quello che ho fatto nella scuola e dei risultati che ho ottenuto devo essere abbastanza contento perché quello che uno poteva dare lo doveva dare per esempio l'immigrato che viene da un altro stato e non sa imparare la lingua che cosa ne facciamo lo scartiamo lo scartiamo il bambino di oggi che non riesce a raggiungere quello che fanno gli altri lo dobbiamo mettere nel banco degli asini cioè nell'ultimo banco ecco per demoralizzarlo per incitarlo non c'è mai stato uno che è stato recuperato attraverso la punizione il voto non rappresenta è un numero è un numero astratto il voto in geografia in storia in scienze è un'astrazione non corrisponde alla valutazione reale che noi diamo al bambino quello che vale lui sono i valori per esempio se si aiuta un compagno che è in difficoltà se si presta il proprio lavoro per aiutare un altro se si fanno delle opere così di solidarietà allora questo bambino va valutato positivamente dicendo questo per me vale non so che voto dare ma molto di più del 10 insomma ecco senti vale la pena ancora di fare l'insegnante di fare il maestro secondo te è il mestiere più difficile ma più importante